Rondo contro Paki, chi è il migliore? Numero di reti gravi commessi 5 a 5, parità. Entrambi non hanno ancora causato il decesso di 4 persone contemporaneamente, ma si impegnano molto per raggiungere tale obiettivo. Bici con lo smalto bianco timbrate, 23 a 0. Rondo è molto coerente e quando disse non scherzava affatto, tutte e 23 donne avevano lo smalto bianco ai piedi e alle mani, altro dato da segnalare, erano tutte over 70 o con un cromosuma sulla diciottesima coppia in più. Paki invece ha paura di invocare ulteriori sciusce e il suo score è attualmente fermo. Tormentoni estivi pubblicati, 0 a 1. Rondo non è tanto noto per le sue abilità a canore. Ciò che lo risalta è la sua bislunghezza. Paki invece, con il brano che ora ti farò ascoltare, ha saputo creare un prodotto orecchiabile e real allo stesso momento. Situazione di 1 a 1. Scrivi chi vince questa sfida nei commenti e motiva la tua scelta.